Ciao, come sei elegante oggi? Grazie Simona! Come mai? Sto andando dal mio avvocato per chiedere la separazione. No, ma cos'è successo? Guarda, non ne posso più, questa volta ho deciso, mi voglio separare dalla mia cellulite. Ah, vabbè, non hai tutti i torti, ma non credo che tu stia andando nel posto giusto. Ciao amiche, ciao amici, come ci siamo detti in questo video, il link lo trovate nell'info box qui sotto o nella piccola i in alto, oggi parliamo di un tema scottante, oggi voglio sfatare subito 5 falsi miti per capirci qualcosa sulla cellulite, è lei che deve capire che se ne deve andare. Siamo d'accordo sul risultato, ma su come eliminare la cellulite, la confusione regna sovrana. Tra trattamenti sciocche e creme miracolose, la pelle a buccia d'arancia viene additata ancora come il nemico numero uno della bellezza femminile. Ma proprio su questo punto voglio rivelarvi un segreto alla fine del video. Intanto sfatiamo il mito numero uno. Le donne magre non hanno cellulite. Tu vuoi che io mi deprima subito? No, perché è falso. La cellulite si può manifestare in tutte le donne, non è legata al grasso in eccesso, ma alla condizione dei tessuti, indipendentemente dalla ciccia. Ecco il falso mito numero due. Dimagrire non basta per eliminare la cellulite, bisogna seguire un programma specifico, una sinergia e per aiutare chi se ne vuole liberare, nel prossimo video vi svelerò la mia routine anticellulite. Se volete ricevere l'avviso da YouTube appena esce il video, basta iscriversi al canale con un clic così e attivare le notifiche cliccando sull'icona del campanello qui sotto. È facile. Ma Simona, almeno le creme anticellulite funzionano? Beh, non proprio. E questo è il terzo falso mito di oggi da sfatare. Le creme, per essere efficaci, hanno bisogno che i principi attivi vengano assorbiti in profondità, ma in caso di cellulite la microcircolazione è bloccata, quindi la crema da sola non può mai funzionare. Ecco, sono condannata, non me ne separo più. Alla cellulite c'è rimedio, non è come dicono questi altri due falsi miti, cioè falso mito numero 4 che la cellulite è una specie di malattia genetica e falso mito numero 5 che avere la cellulite è inevitabile. Per fare prevenzione ed eliminare la pelle a buccia d'arancia bisogna seguire, come dico sempre, una strategia perché una cosa sola non basta. Quindi alimentazione, stile di vita, attività fisica, rimedi naturali, trattamenti manuali, ma specifici. Ne ho parlato già in questi video che trovate sul mio canale e ne parlerò ancora presto. Nel frattempo, come sempre, mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. E per essere anche voi portatori sani di salute naturale, condividete questo video. Comunque, Simona, sono andata dall'avvocato e sai cosa ha fatto tutto il tempo che gli ho parlato? Ti ha ascoltato? No, mi guardava le cosce. Beh, magari voleva farti capire qualcosa. Sì, che ho troppa cellulite. Ma no. Guarda, il segreto che vi avevo promesso di condividere è proprio questo. Sono convinta che siamo noi donne a sentire molto di più il peso estetico della cellulite. Ci sentiamo brutte in competizione con altre donne che magari in quel momento sembra che non abbiano il nostro problema. Ma sapete una cosa? Per la maggior parte degli uomini la cellulite non è un problema come per le donne. Non dà fastidio, anzi è molto meno importante di altre cose più importanti. È una buona notizia. Cosa ne dite, amiche? E voi maschietti cosa ne pensate? Scrivetemelo qui nei commenti. Sono molto curiosa e come sapete cerco di rispondere a tutti, uno per uno. Ci vediamo al prossimo video, naturalmente. Ciao! Ciao! Buona, chi se ne frega dalla cellulite? Eh, passa il mito numero 5! Ciao! 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 Ciao!